Una brutta sorpresa quella che si è trovato nei giorni scorsi, Osvaldo che è venuto qui a vedere i suoi trattori e l'ha trovato completamente danneggiato. Non è tra l'altro il primo episodio che si è verificato nel corso delle ultime settimane. Negli ultimi settimane ho subito tre furti di cui mi sono messo proprio durante la notte a curare perché mi sono accorto proprio che qualcuno entra di notte in questa proprietà ma l'amarezza più grossa dopo il furto che ho trovato è la distruzione di questo grosso trattore che mi hanno dato un danno non di poco. Ha fatto ovviamente denuncia presso la stazione dei Carabinieri di Gravellona, ci sono dei sospetti? I sospetti ci sono perché la gente non arriva da lontano, è qui intorno ed in giro qua nei nostri paraggi però voglio avvisare queste persone che adesso di notte sto girando anch'io da parecchio tempo dopo subito il furto e mi auguro di non fare un brutto incontro perché se no non so come se ne esce. Prima c'era stato qualche dispetto, era stato portato via un blocco di sali da 10 kg, un ombrello da pastore, all'interno di una stalla una lampada e poi adesso il danneggiamento che non ho capito il perché. Tanta rabbia perché per tenere qui i pascoli e il foraggio si fa tanta fatica. Si fa tanta fatica sì, purtroppo accettiamo anche questo però adesso prenderemo provvedimenti di dovere perché non si può arrivare a questo. Io vorrei che quella persona lì che ha fatto sto lavoro se riesce ancora a dormire di notte oppure se ha qualcosa da dire che venga qua lo dica lo dica perché io non ho niente con nessuno, venga qua lo dica perché ha fatto questo danno. Grazie. 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 Grazie.